marco cattura un bel cavedano e subito dopo esce in caccia anche un siloro incredibile che bestione sarà almeno un metro e mezzo cattura di un altro bel cavi d'anello ma come sempre prontamente rilasciato pesca a mosca seca un'altra bella cattura sempre il cavedano ma questa volta un altro bel pesce di ragguardevoli dimensioni la lotta è abbastanza dura visto l'altezza della riva per questo mi sa che bisognerà usare il guadino e si è proprio un bel pesciolone che verrà slamato e prontamente liberato rimettiamolo nel suo habitat bravo complimenti